Ed ora passiamo ad occuparci di piante e fiori perché hanno riaperto i giardini di Castel Trautmannsdorf. Un viaggio attraverso i profumi, i colori, le varietà di piante ed alberi dove a trionfare è la natura. Ricca di sorprendenti novità la stagione 2010 dei giardini di Castel Trautmannsdorf. Un anfiteatro naturale esteso per oltre 12 ettari ai margini orientali di Merano. Una delle mete turistiche più amate dell'Alto Adige. Oltre 400.000 visitatori che l'hanno passato hanno varcato i cancelli e si sono immersi nella natura e nell'oasi di pace del Parco più bello d'Italia nel 2005 e Parco d'Europa numero 6 nel 2006. Ottanta gli ambienti botanici, undici padiglioni artistici, numerose le stazioni sensoriali che anche in questo 2010 renderanno unica ogni visita. L'universo botanico dei giardini si suddivide in quattro grandi aree tematiche lungo un percorso che evidenzia le relazioni tra vegetazione spontanea, clima e suolo. Si possono trovare infatti i boschi del mondo dove si alternano i scenari naturali di Asia e America, passando alle migliaia di tulipani in fiore, alle rose, alle palme, arrivando fino ai giardini acquatici. Ma le attrazioni e gli eventi in questa nona apertura non mancheranno di stupire i visitatori. Quest'anno Trautmastoff sta proprio all'insegna dei profumi. Presenteremo una mostra speciale che si chiama Profumi Divini e Odori Infernali, dove su varie location, nella rimessa, ma anche fuori, nei giardini, presentiamo il tema del profumo. Sia nella versione positiva, il profumo, ma anche l'odore o la puzza. Vogliamo informarvi un po' perché riusciamo qui con i giardini di comulcare più o meno o collocare più o meno tutti i profumi del mondo. Anche quest'anno le serate musicali saranno molto speciali. Non posso ancora dire in dettaglio il programma, però in ogni caso avremo gruppi sia dall'Australia da una parte del mondo che dal Cuba dall'altra o dalla Norvegia o Belgio. I cancelli dei giardini in fiore di Castel Trautmastorf si apriranno fino a novembre dalle 9 del mattino alle 18, dal 15 maggio al 15 settembre invece dalle 9 alle 21. Un trionfo della natura questi giardini di Castel Trautmastorf con spettacolari fioriture per ogni stagione.